Questa è una cosa direi eccezionale perché un sindaco non può pensare che una città come Padova non sia ai primi posti anche nella cultura o come in questo caso con l'orto botanico fra i più belli che ci sono al mondo perché non è paragonabile come dimensione IQ Gardens di Londra però come specificità penso che sia uno dei più belli sicuramente che c'è al mondo quindi benissimo perché ci sarà un ritorno importante per la città in termini non solo culturali ma anche in termini ovviamente turistici e il turismo, lo dirò dopo nel mio intervento, è uno di quei volani per l'economia locale soprattutto in un momento così difficile di crisi che può dare lavoro ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e può essere anche un momento importante di sviluppo futuro per la città di Padova.